Nessun detenuto infetto da Sulmona al carcere romano di Re Bibbia. A escludere che possa esserci un collegamento tra il focolaio divampato dietro le sbarre della struttura penitenziaria romana con quella di piazzale vittime del dovere di Sulmona e il medico responsabile dell'area sanitaria della struttura penitenziaria Fabio Federico. Li fa eco il segretario della UILP a Polizia Penitenziaria Mauro Nardella secondo il quale non può esserci nessun nesso tra i due focolai. Mi dispiace essere venuto a conoscenza del fatto che la garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della regione nazio abbia identificato nei trasferimenti dei detenuti dal carcere di Sulmona a quello di Romare Bibbia la causa dell'accensione di un focolaio proprio presso quest'ultima struttura. Io non credo che l'amministrazione abbia fatto errori, anzi devo dire che proprio essa ha attivato un protocollo ferreo che non consente nessun tipo di movimentazione da un istituto all'altro se non attraverso il rispetto di un protocollo appunto che regola in maniera ferrea l'attivazione di questa procedura. Rimando per cui all'ammittente le affermazioni fatte e invito il garante dei detenuti a unire le forze più che a disunirle perché, e lo devo sottolineare questo, a fare sacrifici in questo duro periodo storico non sono soltanto i detenuti ai quali comunque va il mio applauso per l'atteggiamento che stanno ponendo in essere, ma anche e soprattutto al personale che quotidianamente viene chiamato a svolgere turni massacranti malgrado sappiano di poter contrarre il covid da un momento all'altro. Ovviamente l'amministrazione, i direttori e i comandanti tutti non possono essere rimproverati per questo, per cui a loro va il mio supporto e ovviamente il mio sostegno.